Musica Bello a tutti ragazzi qui Wolf E Jacopo Mi Subito in mezzo all'azione Comunque abbiamo migliorato infatti come vedete abbiamo eliminato tutte le mucche che rompevano Abbiamo fatto in modo che non si spawnano più le mucche perchè ce n'erano veramente troppe E laggava un casino al gioco così invece ha smesso di laggare più o meno Lagga meno ecco Abbiamo aumentato il numero di spawn di Aerobrain Spero di aver aumentato solo quelli di Aerobrain Ma mi sa di no date tutta la gentaglia che c'è qua Ricordo che abbiamo ancora sopra il visore notturno E ci sono ancora tutti sti tizi rossi qua Ti vedi c'è arrabbiati Ecco appunto C'è anche un cavallo Cavallo Questa non ha Questa è eccezionale Non l'avevo mai visto Era da tempo che non vedevo un cavallo nella 164 Anzi forse non l'avevo neanche mai visto E ma mi sa E però Aerobrain Vedi Sì si fanno danno No non sono loro a far danno Però sono impazziti Cliccaci con il destro che così magari puoi cavalcarlo No sono impazziti Sono tutti impazziti sti cavalli Percato Perché Eh vabbè ma c'è la sua Aerobrain Un cavallo faceva Un cavallo faceva piacere ecco Se non sbaglio dovrebbe star finendo la notte Ricordiamo che quando finisce la notte dobbiamo toglierci assolutamente il visore notturno Sennò viene fuori un casino Si diventate ciechi Diventate ciechi per un attimo E non è piacevole Soprattutto con gli amici di Aerobrain Ecco appunto Che ci sono in giro Che per fortuna si sponano solo di notte Essendo mobile Oh ma Ho aumentato il numero di spawn di Aerobrain Ma Non sembra che sia esattamente cambiato qualcosa Ci sono più Ci sono più C'è più gente Ma lui non c'è ancora Noi vogliamo Aerobrain Appunto Però vedo che ci sono sponati altri Amichetti Mi meraviglio che non ti abbia ancora spawnato su una lava Dato che può farlo Ti spona sul fuoco Sulla lava Si diverte molto ecco Si però se ogni tanto diceva che Per esempio non puoi giocare al mio gioco Si ogni tanto ho scrivenciato anche delle cacchiate Cose simili No Sono contento che Wolf ha imparato a A colpire i visici incazzati Secondo me adesso potremmo Ma chiamarla la Morab Chiamarla? La Morab Cos'è? Nuclear Ah la nuclear Che porata nuclear E' 30 uccisioni di fila Subbocchio Ma fai niente Tu non capisci niente Io non sono Oh vedo che ha spawnato i polli Si ma una volta Cioè a noi ce le era Ai vecchi tempi ce le lanciavano i polli Vabbè Oh ma che vuole Vabbè Comunque sono sempre polli ecco Come avete visto sono sempre polli di euro Però è impossibile sbagliarsi Adesso fra un po' dovrebbe farlo Un bel attacco di quelli che conosce lui Che Che te li lancia addosso Che ti rispa Ma dove sta guardando sto qua? E' stop Ops Ok l'ammetto Non me l'aspettavo Anch'io E' strano però Si manifesta poco stavolta All'inizio quando abbiamo messo la mod Era impazzito Divertentissimo sto gioco Dovevamo incantare anche l'arco Era meglio Incantavi l'arco per le esplosioni E' bello che gli scheletri non capiscono Non capiscono dove è che arrivano i polli Sei fortunato che siamo in una zona neutrale Che senso? Dove nessuno viene a rompere Sei troppo distante da tutti Sei troppo distante Se fai due passi avanti Vengono Buon scamperato Questa è geniale Faccio notare che abbiamo ancora le esalazioni e la mela pavua E ne ho preso un'altra Ci credo Uffa ma perché non si fa vivere? Signore Ma anche se è aumentato Il numero di spawn Al massimo di 10 Su 20 Boom Headshot Faccio notare quanto stiamo camperando su Minecraft Poi non campero mai su COD Neanche su Battlefield Che tra l'altro è una cosa che non sarebbe neanche ammessa Cioè proprio non si può Come fai? Si dopo un po' le frecce si perdono nel mondo Si vabbè Sta facendosi giorno Hai attivato il timer No Dettagli Ok attivo Wolf Uffa ma Eroba non si fa vivo Cioè di solito tutti quanti hanno paura di Eroba Noi ci stiamo annoiando Abbiamo paura di questi vidici qua Non è pieno cavolo La prossima volta disattivo anche lo spawn dei vidici No perché Metto soltanto Eroba Ti ha spawnato Hai visto che No Sei Togli la cosa Sei cieco Con la cecità proprio fatta malissimo Cecità Ok Ok Pensavo ti avessi spawnato nel land E il che non era gradevole Quindi adesso direi di pulire tutta la zona Visti qua Visti qua Ecco intanto Si sono già spawnati altri mob Diurni Che ci sono i mob di urni Mob notturni Chi è quel Cos'è quel coso là Quello là è Aerobrainer O no Quale colorino È un villico Sembrava No si Ogni tanto vedi che si spawn a Aerobrainer Anche delle mucche Però poi ci tolgono le mucche Perché le abbiamo disattivate Come vedete ha smesso di molto di laggare Da quando abbiamo fatto le mucche Eccolo qua Aerobrainer Gente Aerobrainer Si se avete sentito un grido Era Aerobrainer Aerobrainer in azione Gente Ed è molto molto arrabbiato No questi qua sono arrabbiati Chissà che roba che deve essere fare un server multiplayer così Con i villici Che è quel coso Il mini villico No un cartello Sembrava un mini villico Ma scusa Il cartello prima non c'era Guarda dietro C'era scritto Look beyond you Quindi è questa qua la casa indicata Che noi naturalmente adesso forziamo Una bella TNT Ecco Praticamente è tutto così Piazza la TNT Togli la TNT Si come metti la cera Togli la cera Salutiamo Piazziamo una bella Una bella Una bella bomba Di quelle belle Potenti No fatte bene Aspetta Se la fate Poi direi di chiudere qua E basta Come basta Non si è ancora spawnato Erobren Direi di ricoprire tutto il mondo Di nucleare E Non nucleare E poi scappare Mettine uno al centro Due al centro dei villici E poi ce ne andiamo Ho spawnato un pig Maiale Queste qua sono Gardine normali Infatti fanno anche le uova Qua 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 Perfetto Notare che skin suprema Che hanno messo Teoricamente poi Si dovrebbero attivare No? Si credo che si attivino tutte Hai notato che c'è Un'altra costruzione simpatica? Dentro al paese di villici Poi che originalità Aspetta Erobren Adesso guardate Via Scappa velocemente Velocemente Non so se hai notato Che si era spawnato Erobren Poi è scappato Come al solito Quel fifone Che non ha mai il coraggio Di Più lontano Più lontano Più lontano Più lontano Qua dovrebbe andar bene Ecco Avete visto Cosa è successo Al povero Villaggio dei villici Villaggio Villici Qua qua Praticamente Vi andiamo Vediamo se ti attacca Ti attacca Ti attaccato Eh che caso Ci hai esploso Geniale Si sta arrabbiando Gente Gine esplosero Di mangiare Eplosivi Via 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 mangiare 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 no prima quel coso vabbè si attento 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 grande grande wolf spawn killing slime spawn killing ce n'è un altro che simpaticone ricordiamo ragazzi amiamo molto risultati e direi di mangiare un pochino e faccio notare che ecco ero brain si sta veramente cacchiando dopo l'esplosione di prima si è arrabbiato per la sorte dei guido dice ecco appunto perché abbiamo distrutto solo il paesino cos'è quel coso di una mucche no mucche normali perché ad ero brain le ha disattivate quindi sono lo scopriamo dopo faccio notare la musichetta simpatica si sono tutti i cavalli 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 sono di ero brain anche le mucche si vabbè scusate ok i cavalli buggati scusate per la telefonata improvvisa che nessuno ci aspettava e di telefono a casa comunque sembra che i cavalli praticamente strisciavano noto che ci sono tante cose strane tipo mezzi spawn e poi si ritirano faccio notare che ero brain comunque non si è ancora fatto vedere cioè cosa strana di solito prima si era proprio spawnato nella mappa e se ne stavano di guardarci gli slime sono veramente odiosi come al solito no come penso no vabbè poi ve lo dicevo poi ve lo spieghiamo nel prossimo video se siete interessati in un video magari vi spieghiamo come anche abbiamo fatto a mettere questa mod come avete tutte le mod si no non esattamente abbiamo usato la forge non tutti sono capaci di metterle mod con forge perché metterle è un po' il casino oh creepy creepy ha scritto creepy non è un buon sì sì i suoi messaggi vanno letti al contrario larga ha laggato no non hai visto che laggava dove c'erano le torce era come se venissi trascinato via vedi perché la sua zona non fa lo fai proprio la sua zona cos'è quello maiale di e malattia no sono maiali ma sono maiali rossi diciamo se c'è rosse ecco proprio la zona giusta così non capisco quali sono è pericoloso maiali così facciamo stare che comunque ero brand oggi è comunque di buon umore relativamente parlando potrebbe fare di peggio prima ha combinato molto molto peggio immagino che schifo che deve essere usare stamattina un mondo non super piatto un casino io direi di lasciare acceso il computer noi che stiamo via portare aspettiamo e aspettiamo di vedere eurobrain vedi come si arrabbia eh sì adesso si arrabbia ma chissà se c'ha un sistema per per quando si deve arrabbiare cioè se c'è un motivo secondo me lo fa a caso se ti spona magari spona secondo le tue azioni spona qualcosa tipo prima c'era era pieno di maiali quindi era logico che sponassi maiali costruzioni no mi faccio saltare tutto in aglio vedo sembra divertente beh insomma calcolate che comunque potete farle anche in sopravvivenza a queste cose qua della bomba nucleare se avete installato la moto giusta eccolo lì eurobrain andiamo a salutarli e io vai come potete vedere è molto molto arrabbiato ti ha sponato il fuoco chi è quel coso qui che ero vai e perché prende fuoco non è molto normale come vedete è molto divertente giocare con eurobrain cacchio questa sì che è una figata abbiamo battuto eurobrain e qua c'è della c'è del vetro che non si capisce bene perché l'epa sponare del vetro però vabbè dettagli noi lo rompiamo tutto così si incacchia proprio comunque avete visto la battaglia avete visto eurobrain che fa veramente paura e guardate quanto i materiali abbiamo aspetta dove va la mira sono sulla no quelli sono patate quelle eurobrain che c'entra eurobrain c'entra sempre come vedete quella di minecraft eurobrain non è soltanto una leggenda ma esiste veramente insomma più o meno un altro paese di villici non ho solo le sue cose non ho quello che è molto interessante ma qua i paesi e villici spuntano come i fumi tra villici cavalli arrabbiati meno male che i cavalli non ti fanno danno bianchi adesso adesso fanno anche i cavalli con questo fanno i cavalli bianco e nero chissà perché gira sempre col piccone cacchio mi sono peccato addosso è un peccato perché volevamo combatterlo andarlo salutare invece lui se n'è andato così è più prudente dopo la lotta di prima perfetta poi maiali esplosivi sono una genialata chiunque l'abbia inventati merita il nostro applauso sta venendo quindi tra poco possiamo rimetterci allora aspetta facciamo una cosa cos'è che vuoi fare se ci dobbiamo adesso ci serve prima cosa un altro visore si carico perché l'altro è scarico no quasi però poi cos'altro ci può servire prendiamo ecco qualcosa di industrialcraft tipo vabbè le bombe nucleari che fanno sempre comodo anche se non le abbiamo quasi mai usate altra tmt altra tmt poi aspetti no quelle lì sono no quelle lì non c'è niente interessante potremmo andare magari ecco o magari c'è qualcosa sarebbe una genialata se sulla navicella mentre c'è nello spazio che ci spona il libro poi abbiamo provato non si può rispondare il visore notturno c'è un enderman che sei ancora comunque in e poi ci sono due tre euro ben ci sono sai li vedi no questi qua sono zombie sembra sembrava nero brain cos'è che è esplosio poco fa non lo so ma c'era un enderman se non sbaglio l'avevo visto dietro di te si e poi e bene comunque ero in creativa per i fondi si questi qua sono zombie normali molto interessanti no volevo insomma fare un obiettivo sopravvivenza così vien fuori un casino veramente pieno di villici soprattutto perché adesso comunque abbiamo la squadra di diamante ma immaginatevi all'inizio il parente non avete in limite esatto e poi senza mod della dell'armatura super potente della diamante secondo me il diamante è a capo sento che qualcuno bussa la porta cara vai ad aprire poi la chiudi magari idea il corso come tornare un video di costare la fanca di farla franca soprattutto c'è questa roba qui che non ci dovrebbe essere questa cosa poi l'ossidiana una super torta l'ossidiana ma si tanto ormai la stavano rompendo anche ancora pronto ok ciao ragazzi dobbiamo ancora un minutino poi dobbiamo chiudere il video perché sono atteso vedo che c'è della lava chi è che c'ha della lava in casa scusa mai visto la lava in una casa non è normale due tornaci e la lava no è normale si spawn si spawnavano anche nei mondi normali questa non l'avevo mai vista quella lì è strano la torcia di ossidiana non l'avevo mai vista secondo me è sempre operativa no ma scusa ma vabbè a questo punto direi di chiudere il video anche perché devo andare quindi direi che comunque continueremo insomma mod di eropera mi sembra funzionare perfettamente adesso non so se poi faremo un'altra puntata oppure magari dov'è finito quello lì magari ne faremo una per la serie galacticraft come andare nello spazio con erobren attivo ecco sopra questo mondo metteremo sempre su questo stesso mondo faremo anche la galacticraft così direi di chiudere qui quindi no faremo una serie un guada il piccolino anche maiale quindi è un maiale creeper ciao a tutti da da colpo mio da wolf da stefan caos che è morto